L'ottavo raduno sciatorio dell'Opera Nazionale Balilla ad Asiaco. Le prime gare dei campionati nazionali alle quali partecipano pattuglie di avanguardisti scelti attraverso un'accurata selezione fra i comitati di tutta Italia. Le prime gare dei campionati nazionali alle quali partecipano attraverso un'accurata selezione fra i comitati di tutta Italia. Le prime gare dei campionati nazionali alle quali partecipano attraverso un'accurata selezione fra i comitati di tutta Italia.